Maurizio Fugatti, è notizia di oggi che sono diminuiti i consumi, la gente compra di meno. A questo proposito le chiedo, se il governo decide di aumentare di un punto percentuale l'IVA dal 1 luglio, che cosa succede per lei? La spesa generale per una famiglia italiana media, a seguito dell'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, monta circa 135 euro di spesa in più. Chi ha un'utilitaria normale a benzina spenderebbe ogni anno circa 20 euro di benzina in più, 30 euro se invece si parla di macchina utilitaria a gasolio. Questi sono i dati che danno le agenzie di statistica. È chiaro che quindi conseguentemente un aumento dell'IVA comporterebbe un calo dei consumi dei prodotti. siano essi i prodotti colpiti dall'aumento dell'IVA, ma anche gli altri prodotti, perché se uno spende di più per determinati prodotti, poi alla fine ha meno soldi anche per comprare gli altri prodotti, quelli dove l'IVA non aumenta, perché l'IVA aumenterebbe sulla liquida dal 21 al 22, quella del 10% non è prevista l'aumento. Quindi il risultato finale è comunque un calo di consumo. Il ministro Saccomani dice che per non aumentare l'IVA bisogna trovare un miliardo per bloccarla fino a ottobre o due per non aumentarla affatto. Secondo lei questi soldi si possono trovare? Il governo Monti trovò 4 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. Hanno trovato 2 miliardi per il buco della sanità del sud, delle regioni del disavanzo sanitario, delle regioni del Mezzogiorno. Ecco, gli ho fatto due esempi che se si vuole si può trovare. 800 miliardi è la spesa pubblica complessiva. Crediamo non sia un problema andare a reperire il 4 miliardi, che sono lo 0,5% della spesa pubblica complessiva. Non credo sia un problema.